c'erano prima anche di frida calo 15 storie di artiste tra le tante possibili è il titolo del libro di cui parliamo in questa puntata di tre pinguini sul sofà pubblica di libri e letture della biblioteca dell'unione femminile nazionale fiorenzo baini l'autore insegna lettere ha pubblicato circa una ventina tra saggi e articoli sulla storia dell'arte in questo libro ha raccolto 15 biografie di donne più o meno note artiste in epoca moderna e le ha raccontate in uno stile molto coinvolgente a parlare con lui valeria mariani docente di lettere e consigliera dell'unione femminile nazionale per chi apre per la prima volta il tuo libro incontra vari capitoli fondamentalmente in cui possiamo dire che incontra dei mini romanzi posso permettermi di definirli così perché i protagonisti parlano in prima persona e tra l'altro ci sono anche tanti dialoghi che immagino siano verosimili ovviamente nonostante la documentazione storica che vi sta alla base ho cercato di rispettare quella che è la teoria del romanzo storico cioè infatti tutti veri e dialoghi verosimili per cui tutto ciò che si incontra è vero ma cos'è ridire pure i personaggi i dialoghi verosimili semplicemente perché ho voluto provare a interpretare come dovevano pensare come dovevano parlare queste artiste a seconda della situazione in cui si trovavano e in questo senso penso di avere abbastanza centrato quella che è la loro psicologia per quello che ne sappiamo per quello che emerge dai fatti e dei documenti sì mi viene in mente che a tratti è anche molto divertente perché hai anche improvvisato delle battute nel loro dialetto nel loro dialetto nelle città in cui ci troviamo perché a proposito di questo le tue artiste diciamo il panorama è abbastanza internazionale però indubbiamente il numero maggiore è di donne italiane non credo per una questione campaneristica ma forse perché l'italia aveva un numero insomma aveva un numero notevole ha avuto un numero notevole di artiste in quei secoli si ha avuto un numero notevole superiore agli altri ma soprattutto c'era possibilità di formazione nel senso che non è detto ma se c'era un minimo di talento e una ragazza si trovava ad avere il padre o il fratello che era artista e che lavorava in una bottega prima o poi finiva pure lei per tra virgolette sporcarsi sporcarsi le mani in più c'è anche a dire una cosa che comunque sia l'italia dava anche tantissimi esempi di arte del passato a cui eventualmente ispirarsi cosa che all'estero era un po più dura aggiungo anche il fatto che anche se non sembra perché noi giustamente come italiani spesso ci flagelliamo però ci sono delle situazioni in cui siamo stati un po meglio degli altri le possibilità di promozione da parte di una donna artista all'epoca erano superiori in italia che nel resto d'europa e anche questo spiega una produzione che numericamente non è proprio bassa e soprattutto sono ritratti vero le donne si specializzavano purtroppo dico solo nella ritrattistica qualcuna per fare il salto di qualità doveva avere una commissione da parte del clero giusto per fare grandi opere in italia lo studio fondamentale era quello dell'anatomia cioè lo studio del nudo ovviamente la cosa diciamo che se non eri dato in una bottega di artista la cosa ti era preclusa e allora questo portava proprio una vera e propria limitazione tecnica nella resa del corpo umano perciò la donna diciamo così se era brava poteva specializzarsi nella ritrattistica nella natura morta ciò non toglie il fatto che uno era veramente arrivato come artista dal momento in cui avesse avuto la commissione da parte del clero da parte della nobiltà quello era era il salto di qualità definitivo perciò più o meno tutte le donne artiste a meno che non si fossero accontentate proprio di di un livello proprio specialistico proprio specialistico più o meno hanno sempre aspirato aspirato ad avere queste questo tipo di di commissione posso aggiungere anche che in qualche caso vogliono creare delle opere proprio dove si veda la propria abilità tecnica proprio per dire io sono io sono a livello di qualsiasi artista uomo a volte superiori al padre e spesso tu hai citato artiste che sono state chiamate da corti anche straniere tipo la corte spagnola qualcuna è andata qualcuna non ha potuto andare perché non è stata lasciata andare fondamentalmente perché il padre non ha lasciato andare e poi mi viene in mente che bologna è una città che torna spesso nel tuo libro è vero sì sì adesso io ci ho fatto caso solo alla fine però ho notato che in percentuale le artiste bolognesi sono la maggior cioè percentualmente sulla maggior parte bologna io penso penso che dipenda dal fatto che una città universitaria e perciò abituate in un certo senso un'apertura di di mentalità maggiore perché l'università praticamente arrivavano a tutta italia e all'estero secondo che è una città è sempre stata una città ricca e questo favorisce praticamente commissioni sia nobiliari che del clero e così via e terzo che non credo sia un fatto indifferente era una città di confine perché bologna era l'ultima città dello stato pontificio però appena di là di bologna cioè 10 chilometri c'era il ducato di modena poi sopra c'era il ducato di ferrara e così via venezia poi non era neanche lontana allora i posti di confine se non hanno delle barriere fisiche montagne fiume così via sono sempre notevoli porti posti di interscambio e per cui in pratica la fama la fama diciamo così circola più più facilmente per cui se mettiamo insieme questo aspetto con una maggiore apertura mentale con la ricchezza credo che si possa spiegare diciamo la la prevalenza di bologna con con la presenza di artiste sembra quasi che il tuo racconto insomma i tuoi romanzi vada non può finire con la fine del settecento nel senso che queste figure sembra quasi che qualcosa si fermi verso la fine del settecento come mai con l'età moderna invece di di sbocciare nell'ottocento sembra che qualcosa rallenti ci tengo a dire qualcosa di abbastanza controcorrente allora io sono convinto nessuno mi toglie dalla testa fino a prova contraria che la promozione socio professionale delle donne stesse facendo dei grandi passi in avanti nel corso del 1700 faccio sempre notare che nel 1750 avevamo maria teresa d'austria la zarina elisabetta di russia e madame de pompabor che non era regina ma tanto il re faceva quello che voleva lei per cui avevamo a capo delle dell'europa tre donne cioè sarebbe come se oggi come oggi fossero tre donne a governare la cina gli stati uniti e la russia ora una cosa del genere non si è mai più vista che è successo con la rivoluzione francese e poi con napoleone che ha prevalso la borghesia la prevalenza della borghesia ha partorito quello che diciamo così poi codice napoleonico che il codice napoleonico stabiliva proprio legalmente la sottomissione della donna prima prima al padre e poi al marito ma oserei dire anche nell'arte nel senso che nel senso che potenzialmente nell'arte ci potevano essere più possibilità ci sono delle artiste ci sono delle artiste ma se nel settecento soprattutto certe artiste se la potevano giocare alla pari con gli uomini non so tipo rosalba carriera la visione lebron o angelica cauma nel nell'ottocento no si dice si sono influenzate tipo dall'impressionismo le francesi però sempre un gradino un gradino più in basso tra queste artiste ce ne sa una che è la tua preferita o quella per cui ha insomma particolare simpatia ne puoi scegliere io sono affezionato alla povera elisabetta sirani perché elisabetta sirani è proprio un caso di talento fenomenale riconosciuto riconosciuto anche consapevole anche consapevole del proprio talento con delle aspirazioni ma che non poteva a cui non poteva mai dare seguito perché elisabetta sirani o però a bologna figlia d'arte riconosciuta riconosciuta praticamente brava in tutto questa era una fucina di talenti dipingeva bene cantava bene era pure bella di tutto ma per per egoismo il padre le impedì di andare a procacciarsi gloria altrove come avrebbe potuto e come avrebbero desiderato anche dei committenti tra parentesi elisabetta sirani è quella che ha fatto il salto di qualità perché se vai alla certosa di di bologna nel presbitero ci sono due teloni enormi uno di suo padre e l'altro suo dove lei vuole dimostrare vuole dimostrare praticamente di essere a livello dei maschi di essere in grado di dipingere di essere ispirata ad amnibale caraccia tiziano e stato rappresenta il battesimo di cristo questo dipinto se ci fai caso ti dovesse capitare vedi che è firmato a caratteri cubitali come dire praticamente sono io ho raggiunto questo obiettivo adesso non si può confondere con mio padre che sta davanti ma sono io e per cui la sua triste fine 27 anni lei è morta molto probabilmente per una peritonite fulminante secondo me dovesse una ragazza sottoposta a degli stress enormi a degli stress enormi perché doveva badare al padre infermo doveva essere perfetta farla donna di casa dovere dipingere soddisfare le varie committenze eccetera secondo me c'è qualcosa che nel suo fisico ha ceduto ecco questo è per questo che sono affezionato alla povera elisabetta sirani tu hai scritto nel libro mi ricordo questo particolare della di un momento in cui si dice che già mesi prima avesse la morte in viso è scritto questo è bello perché il tuo libro appunto fa vedere questi aspetti personali anche degli artisti ma allo stesso tempo in effetti portandocelo con noi possiamo trovare le opere in italia che forse sono meno conosciute no ad esempio a certosa di parma e scusami di bologna uno entra e gli cade l'occhio su questo grande dipinto e adesso sa appunto di chi sia di questa artista che magari è meno nota di altre ecco bene allora io ti ringrazio e lascio chi ci ascolta la lettura di nuovo arrivederci ciao fiorenzo ciao 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 Grazie a tutti